amici di fulvio le sue ricette benvenuti inauguriamo una nuova rubrica i panini di fulvio con questa focaccia mortadella burrata crema di patata arrosto e granella di pistacchi partiamo subito forte 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 vediamo come farla buonissima doppio morso ci sta perché veramente goduriosa procuratevi della focaccia morbidissima e alta potete comprarla o prepararla a caso trovate la mia ricetta anche nel canale youtube partiamo dalle patate le tagliamo a fette spesse circa un centimetro e poi a bastoncini e infine a dadini il taglio lo potete fare come preferite li mettete un po in acqua e fate perdere tutto l'amido in eccesso mi raccomando a questo passaggio lasciate una mezz'oretta in acqua pezzettino di scalogno lo tagliamo a fettine anche grossolane va bene tanto poi va tutto frullato subito in padella olio extravergine d'oliva di quello buono mettiamo lo scalogno e aggiungiamo le patate scolate e iniziamo a cuocerle queste patate con un pizzichino di sale aggiungiamo un po di pepe nero e un po di rosmarino e li facciamo cuocere in padella piano piano con un po di pazienza spadellando di tanto in tanto mi raccomando non bruciateli e dopo averle rosolate per bene aggiungiamo un goccino di latte di tanto in tanto e le facciamo cuocere col coperchio li portiamo a cottura nel mentre prendiamo il bel pezzo di focaccia guardate quella che ho preso è bella morbida 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 e alta perché a me piace così la focaccia la spaccate a metà la tagliate a metà in questo modo e la mettete da parte perfetto operazione molto semplice da fare adesso in un contenitore stretto e alto andiamo a frullare le nostre patate aggiungete se occorre un goccino di latte ma la crema deve essere bella densa asciutta 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 vedete deve essere così bella cremosa corposa la regolate di sale e pepe assaggiatela adesso andiamo a tostare andiamo a rendere croccante un po la nostra focaccia la parte interna della focaccia schiacciata un po bene senza mettere nulla vedete una bella croccantina e ci mettiamo la nostra crema di patate alla base la nostra crema di patate arrosto bella abbondante in questo modo perfetto ne basteranno due tre cucchiaiate generose adesso andiamo a mettere la nostra mortadella mi raccomando abbondante a me piace bella abbondante adesso andiamo a mettere la stracciata di bufala anche questa abbondante a me il ripieno dei panini delle focacce piace molto molto abbondante e per finire la granella di pistacchi guardate qua che bel che bei colori e non ci resta che andarla a coprire e la nostra merenda il nostro pranzo veloce è pronto guardate qua che bello che bei colori e che bei sapori la sapidità della mortadella la dolcezza delle patate che hanno quel retro gusto un po di arrosto affumicato e la dolcezza della bufala tutti e tre insieme andranno a creare un connubio perfetto per questo nostro pranzo veloce mi raccomando seguitemi anche in questa nuova rubrica i panini di fulvio vi saluto vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta anzi al prossimo panino